È stata una giornata particolare, anche se non inusuale per me, in particolare perché con gli studenti abbiamo spesso a che fare. Erano ovviamente tanti, molto attenti. È interessante riuscire a parlare in un contesto pubblico bene dell'Europa, perché purtroppo attualmente non è così comune sentire e parlare bene dell'Europa. Io penso che come italiani dovremmo ringraziare la costruzione europea perché ci ha permesso di resistere alle crisi come sicuramente non saremmo riusciti a fare da soli. E quindi è vero che aver fatto solo la moneta è poco, ma per noi in particolare, che avevamo una moneta fragile e molto esposta alle speculazioni, aver fatto la moneta è significato tantissimo. C'è ancora molto da fare e questo è un progetto ambizioso. I padri che sono stati qui rappresentati dalla signora Maria Romana De Gasperi sono stati estremamente visionari, quindi il progetto è lungo. Ma sono convinta che questi ragazzi abbiano colto l'essenza di cosa significa avere un sogno e lottare per riuscire a raggiungerlo.